Sonia Bruganelli ha vissuto una puntata complicata ieri sera a Ballando con le stelle. Prima di salire sul palco, l'ex opinionista del Grande Fratello è crollata emotivamente a causa di una canzone che le ha ricordato un momento difficile del suo passato. Durante la sua esibizione ha ripercorso davanti al pubblico il momento in cui i medici diagnosticarono una cardiopatia congenita alla figlia Silvia quando era incinta all'ottavo mese. La commozione di Sonia ha toccato il cuore dei telespettatori, dimostrando una grande umanità. Durante le prove con il compagno di ballo Carlo Aiola, la canzone Un'emozione da poco di Anna Oxa ha riportato alla mente di Sonia un periodo di rabbia legato alla malattia di sua figlia. La Bruganelli ha raccontato con grande sincerità la sua esperienza, sottolineando la difficoltà di affrontare la situazione a soli 27 anni. Dopo la puntata, Sonia ha ringraziato i fan per il sostegno sui social media, ma non sono mancate le critiche da parte degli hater. Nonostante ciò, la maggior parte delle reazioni è stata positiva, con molti personaggi famosi che hanno mostrato solidarietà nei confronti della concorrente. La Bruganelli ha condiviso la sua storia personale, rivelando i momenti di dolore e difficoltà vissuti con la figlia Silvia. La sua vulnerabilità ha reso Sonia più umana agli occhi del pubblico, che potrebbe stare attrezzare la sua autenticità durante del pubblico. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!